Ciao a tutti e benvenuti sul portale di ExtremeHardware.com Oggi abbiamo il piacere di presentarvi il modello Silverstone RVZ01 prodotto appunto da Silverstone Prima di cominciare vogliamo fare alcune precisazioni Quella che state vedendo non è propriamente una video recensione completa verranno analizzate brevemente le caratteristiche principali ma vi invitiamo caldamente a leggere la recensione scritta sul nostro portale lì infatti troverete moltissimi dettagli tecnici, misurazioni, fotografie e test vi chiediamo solamente una volta terminata la visione di commentare il video e la recensione sia sul nostro canale di Youtube sia sul portale dove è richiesta la registrazione vi ringraziamo per l'attenzione Bene, fatta questa premessa innanzitutto spieghiamo cosa sarà recensito in questa recensione appunto del cabinet innanzitutto il cabinet Silverstone Mini ITX RVZ01 veramente fantastico ma lo vedremo fra poco Nel corso di questa recensione saranno testati a livello di compatibilità il Cooler Master 610120V dissipatore a IO a liquido installato nella parte frontale del cabinet poi come scheda madre verrà utilizzato un Asus P8077i Deluxe un modello semplicemente eccezionale dissipatore Tundra TD02 verrà installato verrà fatto una prova all'interno di questo cabinet verrà utilizzato il modello Silverstone SFX Series 450W ST45 SFG 80 Plus Gold un alimentatore eccezionale verrà installato e testato a livello termico l'NT06 Pro quindi testato a livello termico sia il Pro sia il dissipatore Intel boxato all'interno della P8077i signori una recensione davvero molto completa bene ragazzi fatta questa presentazione analizziamo molto velocemente le specifiche tecniche dell'SST RVZ01B allora innanzitutto le dimensioni visto orizzontalmente 382x350x105 di spessore due slot di espansione 3.71 kg colore interamente nero predisposizione per due ventole a 120 mm ne vengono fornite due una nella parte inferiore o laterale sinistra e una nella parte superiore o laterale destra nella parte bassa 120 mm per 15 mm quale ventola è? scusate quale ventola è? questa modello fantastico slim e molto silenzioso quindi niente uno slot da 5.25 pollici perfettamente compatibile con i modelli Silverstone Slim due slot 3.5 bay interni non hot swap perdonate scusate uno mentre tre slot da 2.5 pollici interni uno posto sul supporto verticale davanti alla PSU compatibilità della VGA 33.78 cm o 13.3 pollici CPU 83 mm senza la ventola preinstallata 120 mm per 15 mm PSU consigliamo l'installazione del modello SFX Series 450 W ST45S FG che è quello che avete visto precedentemente ovvero questo qui modello eccezionale già recensito da noi fateci sapere cosa ne pensate della recensione oltre a questo quindi non è presente una parodia posteriore quindi non possiamo darvi misurazioni del cablaggio posteriore materiale dello chassis telaio in acciaio frontalino in plasticatura come le parti laterali che si possono rimuovere USB 3.0 ne troviamo due non troviamo nessuno USB 2.0 non troviamo ESAT SD ma troviamo Power Mic Audio e Reset con LED blu di stato e di lavoro appunto per gli hard disk compatibilità con gli standard di produzione delle schede matri Mini DTX Mini DTX bene questo è quanto compatibilità di sistemi a liquido troviamo nella parte superiore 1x120 mm per 25 mm di spessore lì e nella parte inferiore è possibile installare un radiatore da 240 mm senza però che venga utilizzata una scheda video quindi per configurazioni con una CPU molto potente GPU integrata oppure un modello da 120 mm con una scheda grafica lunga lunga fino a non ricordo quanto ma c'è scritto nella recensione ovviamente lo spessore consigliato è slim in entrambi i casi push pull consigliato nella parte superiore qualora volessimo andare addirittura oltre cioè installare una ventola nella parte superiore oppure push normale in questo caso consigliamo di non mettere un push pull vabbè insomma vedete voi in base all'eventola non c'è nessun problema quindi in sostanza diamo uno sguardo all'interno del cabinet come si apre niente di più facile ah una particolarità è che sono stati forniti da Silverstone tre filtri antipolvere con tanto di bordi magnetici quindi possiamo attaccarli dappertutto tre filtri come si apre niente di più facile ovviamente ovviamente trovate preinstallata la ventola da 120 mm qui ad esempio potete vedere che c'è una predisposizione con 4 fori ma ce lo leviamo subito dalle scatole perché non ci interessa osserviamo cosa c'è all'interno bene qui trovate appunto tutto il sistema che è già installato ad esempio una scheda madre P8Z77 deluxe Asus con circuiteria di alimentazione maggiorata VRM PCB dedicato fantastica ram da questa parte connettore alimentazione 8 pin e 20p4 pin qui abbiamo già installato il dissipatore NT06 qui infatti trovate i fermi per il montaggio solo che per mostrarvi la configurazione interna purtroppo l'abbiamo dovuto levare niente quindi in sostanza due SSD o due dischi da 2.5 pollici qui uno nella parte frontale davanti all'hard disk uno da 3.5 pollici abbiamo installato un Wester Digital Caviar Black da 2TB questo è un SSD è un disco da 320GB Wester Digital sempre ovviamente qui da notare che abbiamo scusate era qui qui sotto sotto al disco c'è l'alimentatore da notare che abbiamo cercato di potenziare il cablaggio interno ad esempio qui abbiamo utilizzato molte fascette passacavo che non sono non ricordo se sono presenti comunque sia vi consigliamo di utilizzarle qui ad esempio vi consigliamo sempre di fascettare e di organizzare i cavi come abbiamo fatto noi perché potrebbe crearvi qualche problema è possibile installare un SSD qui sotto ci avevamo provato inizialmente ma abbiamo detto perché complicarci la vita mettiamolo lì non c'è problema ne potete mettere due quindi non c'è nessuna grana sotto questo punto di vista scheda video qui sotto potete fare quello che volete potete mettere addirittura modelli custom ASUS DC2T credo che sia compatibile a patto probabilmente di rimuovere la ventola ad ogni modo questa è una sezione separata per la scheda grafica quindi se avete configurazioni dual slot o tri ad esempio triventola come la WCF3 di Gigabyte Windforce 3 fantastica non c'è modello migliore per questo cabinet e quindi insomma questo è quanto troverete tutti i dettagli della recensione nella parte interna troverete la compatibilità con radiatori da 240 mm e 120 mm quindi insomma leggetela questo è semplicemente un video di presentazione in sostanza adesso vi verrà letta le conclusioni per tutti coloro i quali non vorranno leggere la recensione scritta non gliene ne fregherà nulla io mi sono andato la fare ma vabbè non fa niente allora la presentazione delle Steambox con il sistema operativo Steam ha certamente portato una ventata d'aria fresca nel settore dei personal computer e stiamo osservando che diversi produttori stanno cercando di inserirsi in questa nuova nicchia di mercato Silverstone è stata la prima azienda ad aver lasciato un prodotto per il mercato consumer e questo quindi ciò indubbiamente deciso elemento di orgoglio che diavolo ho scritto non lo so non lo voglio sapere ma andiamo avanti il case riesce appieno a permette ah ecco perché Google Translate addirittura benissimo video simile a che lì che fa angelo bene video cacerone vabbè ad esempio esemplare la compatibilità con dissipatori a liquido con il dissipatore proprietario NT06 Pro certamente Silverstone gioca in casa si vede nella progettazione dell'alimentatore SFX 450W SST ST45 SFG finito potevo di tutto l'alfabeto però l'utilizzo di componenti proprietari è solamente un elemento a favore poiché viene garantita ah no viene garantita viene garantita dove diavolo stai mi sono perso sto leggendo questo fogliaccio che senza questo non riesco a fare nulla maledizione la memoria è quella che è aiutatemi perché viene garantita la compatibilità intera a livello strutturale non ci sono problemi degni di nota in quanto bisogna considerare che l'assemblaggio di questi sistemi deve essere fatto a mani esperte e non novizia alle prime armi bisogna sapere dove si mettono le mani come gestire i componenti e dobbia potenziali problemi di compatibilità con componenti di terzi produttori per evitare malfunzionamenti o rotture dell'hardware utilizzato bene perché ho scritto questo per un semplice motivo abbiamo provato ad installare la XP200 il dissipatore top di gamma di thermal write bene installando questo c'è un problema di compatibilità perché va a impattare similmente all'NT06 Pro solo che qui riusciamo a metterci una pezza con il thermal write no infatti potrebbe portare a complicazioni state molto attenti se lo installate perché potrebbe darsi che le viti superiori si installino quelle inferiori no va dai nove riting la CPU e potreste danneggiare le fasi di alimentazione di questa scheda madre quindi in sostanza cercate di fare le cose correttamente e mettete il cervello davanti alle mani cosa fondamentale questi sistemi sono molto complessi quindi un minimo danno ad esempio porte SATA scheda video pressione sui slot PCI adesione ai cavi si tirano le RAM cortocircuiti quando si toccano le schede madri insomma in modi non so insomma se venire da fuori dovete stare molto attenti comunque sia questo è quanto ad ogni modo parliamoci chiaro è un gioiello uno dei migliori cabinet mini ATX mai progettati l'adozione di un PCIe riser card è stato l'elemento vincente di questo modello che oltretutto garantisce l'installazione di un HDD di un disco da 3.5 pollici e 3 da 2.5 anche questo unito alla presenza di un lettore ottico slim frontale di una VGH sta molto lunga rappresenta lo stato dell'arte nel mercato consumer ci sono alternative oltre alla già citata Steambox tenetevela questo qui è un cabinet fantastico costa molto poco rapportato a quei sistemi ma soprattutto ve lo potete configurare voi ecco Steambox letto 499 dollari 6999 il Tiki eccezionale ma chi ce l'ha tutti questi soldi da buttare ecco ad esempio sono presenti varianti ASRock modello M8 ed Alienware l'X51 che ad esempio ha un alimentatore esterno però bisogna considerare che sono computer preassemblati appunto dal costo proibitivo per la quasi totalità dell'utenza il prezzo di commercializzazione per quanto ne sappiamo sarà di circa 150 euro IVA compresa prezzo i rivenditori autorizzati Silverstone e la disponibilità quella reale presso i negozi dovrebbe essere entro la fine del mese di febbraio per tutti coloro i quali volessero un PC al top con il minimo ingombro possibile per tutti coloro i quali cercassero una delle migliori soluzioni per lamparti signore e signori il Raven RVZ01 fa per voi bene la recensione anzi questa è un'anteprima video troverete la recensione scritta quindi non aspettatevi test o di vedere altre cose qui dentro perché la troverete nel testo cliccate commentate diffondete fate quello che vi pare basta che ci fate sapere se vi è piaciuta la recensione buona giornata a tutti e alla prossima ciao 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 ciao